Sono tutte cose sulle quali attualmente non ho la testa, sicuramente una mia aspirazione è quella di rappresentare sempre più cittadini, mi pare anche di averlo fatto sia nella classe dirigente di Fratelli d'Italia, poi torniamo sul conduzione familiare, sia in tema di candidature di Fratelli d'Italia, di allargamento della classe dirigente di Fratelli d'Italia a nuove culture, a nuovi mondi che non erano propri della destra politica, che si sono avvicinati al nostro partito, che oggi collaborano portando il loro valore aggiunto, questo è un lavoro che sicuramente bisogna continuare a fare, che bisogna continuare a fare nel rapporto con la politica, che bisogna continuare a fare nel rapporto con la società civile, cioè che bisogna continuare a fare. Per quello che riguarda il rafforzamento della classe dirigente, ripeto, io non ho la lettura da lontano.